Anticipazione una vita, mercoledì 28 ottobre 2020. Emilio chiede aiuto ad Antonito, deve trovare un fidanzato per la figlia di Ledesma per convincere il mezzadro dell'inutilità del suo piano. Il loro progetto andrà in porto? I Palacios intanto organizzano la loro vita insieme con Antonito e Carmen. Andranno d'accordo? Oppure ci saranno tensioni battivecchi? Servante e Fabiana continuano a vivere momenti difficili presso la loro pensione ma per fortuna possono contare sull'aiuto dei loro fidati amici. Emilio e Antonito si incontrano e propongono di portare Angelines a fare una passeggiata. I due hanno in mente di presentarle diversi corteggiatori. Purtroppo la ragazza non è in vena di conoscere nuove persone e la cosa scoraggia e non poco il di passamara. Grazie a tutti.